Sempre il grano al centro del mondo e della guerra. Vladimir Putin sabato in una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz conferma la volontà della Russia a rinnovare il dialogo con Kiev, in particolare sull'esportazione del grano ucraino, si legge in un comunicato del Cremlino. Il porto di Mariupol, di fronte al Mar Dazov, ha ripreso le operazioni sabato mattina, dopo che le forze russe hanno dichiarato concluso lo sminamento e la rimozione delle navi affondate nelle acque a largo della città. Una nave diretta a Rosto-Vondon in Russia è entrata nel porto di Mariupol nelle prime ore di sabato. Un portavoce del Ministero della Difesa russo. Le navi della flotta del Mar Nero, della base navale di Novorossirsky, hanno assicurato il passaggio sicuro di una nave mercantile al porto di Mariupol. Nel frattempo la Marina Ucraina ha dichiarato che le navi russe continuano a bloccare la navigazione civile nelle acque del Mar Nero e del Mar Dazov lungo la costa meridionale dell'Ucraina, bloccando l'esportazione di grano ucraino. Keswi Zinga, agricoltore olandese che da 20 anni vive in Ucraina, conferma che l'unica cosa di cui abbiamo bisogno è aprire i porti del Mar Nero e cacciare i russi in modo da poter continuare il nostro lavoro qui. Il trasporto su strado e in treno attraverso l'Europa sono una goccia nel mare. I porti del Mar Nero esportano l'80-90% del grano ucraino. Secondo gli agricoltori, in Ucraina c'è ancora quasi un terzo del raccolto dell'anno scorso nelle scorte, in parte immagazzinate nei porti e in gran parte nei granai delle aziende agricole.